Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo giallo che promette suspense, riflessioni sulla vita e relazioni complesse, offrendo al lettore l'opportunità di esplorare temi come la solitudine, la ricerca di significato nel comprendere come le esperienze apparentemente positive possano nascondere un lato oscuro e la complessità delle relazioni umane. La trama del libro Estranei dello scrittore Taiki Yamada, casa editrice Nord, è la seguente. Arada Ideo è un uomo di mezz'età, divorziato, con un figlio che non vede quasi mai e un lavoro, scrivere sceneggiature per la televisione, che stenta a decollare. Per di più, vive nel suo ufficio, in una grande e assettica palazzina nei pressi di una trafficata strada statale di Tokyo. Così, per sfuggire allo squallore e alla solitudine della propria esistenza, il giorno del suo compleanno Ideo decide di recarsi ad Asacusa, il quartiere della sua infanzia, dove a dodici anni aveva perduto entrambi i genitori, investiti da un'auto. Ma, quando entra in un teatro, tra il pubblico nota un individuo straordinariamente somigliante al padre. L'uomo lo invita a seguirlo a casa sua, dove lo aspetta la moglie. Anche lei è identica alla madre morta. Ideo trascorre con i due una serata sconcertante e meravigliosa. E questo gli dà la forza di riprendere a lavorare con rinnovata energia. Gli incontri si susseguono, e sono una fonte di gioia e serenità. Eppure, Ideo appare agli occhi dei suoi amici sempre più pallido e smunto, come se un male oscuro lo stesse consumando. La più angosciata di tutti è Kay. Una vicina di casa con la quale Ideo ha intrecciato una relazione sentimentale. Che, una volta scoperto il suo segreto, gli consiglia di interrompere quelle visite, perché è evidente che lo stanno distruggendo. Ma anche Kay nasconde una verità inquietante. Il romanzo è stato adattato a film che verrà distribuito nelle sale dal 29 febbraio 2024. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.